Il sogno di una cittadina più pulita e verde passa anche attraverso accorti tra varie realtà. Il sindaco di Cassel San Giovanni, Lucia Fontana, ha scritto una lettera ad Enel per chiedere di far entrare il paese della Valtidone in un programma di forniture di biciclette e auto elettriche da posizionare nei pressi del polo logistico gestito da Vailog. Si tratta di utilizzare mezzi elettrici, quindi biciclette o comunque auto, che verrebbero, secondo il mio sogno, parcheggiate nel parcheggio, quello della Carona, Piazzale Carona, per consentire l'accesso dei lavoratori del polo o di una parte del polo, utilizzando, e quindi quelli che arrivano da fuori Castel San Giovanni, con mezzi pubblici, l'utilizzo di questi mezzi per arrivare, per accedere al posto di lavoro. Sarebbe un bellissimo esempio, una realizzazione concreta di quello che si va dicendo, e cioè che si vuole rispettare l'ambiente, si vogliono abbassare quelli che sono i livelli di PM nell'aria, eccetera. Quindi io ho scritto, posso anticipare, ho scritto proponendo quest'idea a Enel perché metta a disposizione questi mezzi. Io so, so perché ne sono a conoscenza, che Enel ha siglato un protocollo d'intesa con la regione Emilia-Romagna che ha per oggetto proprio questo tipo di intervento e che al momento è realizzato in alcune città dell'Emilia-Romagna. Io spero che la nostra piccola città possa essere annoverata tra quelle che stanno sperimentando questo tipo di percorso virtuoso. Grazie a tutti.